La situazione del borgo è una situazione che è mutata soprattutto negli ultimi anni e le motivazioni sono molteplici. Il borgo di Ischia Ponte da sempre è stata la località alla quale i residenti del comune di Ischia e degli altri comuni più si sono riferiti o hanno preso come punto di riferimento per le spese di consumo proprio. Tanto è vero che da sempre, lungo il corso Vittorio Colonna, ci sono più attività chiuse, credo che di non star dicendo nulla di nuovo e di non star offendendo nessuno. Ci sono quelle storiche che da sempre lavorano in quella zona, mentre Ischia Ponte è sempre stata un punto di riferimento in tal senso. Con il passare degli anni c'è stata la dismissione di una serie di attività di interesse fondamentale. La posta, adesso straordinariamente sostituita dalla libreria, Banco di Napoli che aveva la sua filiale forse più accorsata dell'isola, che era immediatamente di fianco qui al mio locale. C'erano un paio di patronati, c'erano e ci sono ancora in verità un paio di punti di vendita immobiliari, che erano parecchio accorsati. Parlando con qualche impiegato postale, anni fa addirittura mi avevano dato come dato una riduzione enorme dell'afflusso di persone all'ufficio da quando Ischia Ponte aveva avuto la mutazione a normale zona di traffico a ZTL, che fu cominciata con il sindaco Giovanni Sorrentino non un minuto fa. Cioè voglio dire che sia il 92-93. Però chiaramente negli anni 99-2002-2003 si è arrivati un po' alla stretta per cui il periodo si è allungato, di ZTL, si è allungato l'orario giornaliero e il periodo. Quindi da marzo alla fine di ottobre, inizio di novembre, la settimana dei morti e dei santi. Questa cosa ha fatto decidere queste aziende giustamente di non essere più nel luogo giusto per poter svolgere la propria attività. A questo si è annesso quella che è, secondo me, una cattiva gestio nel controllo delle chiusure delle attività pubbliche. Ci sono delle attività che giustamente chiudono perché è il loro giorno di chiusura infrasettimanale, che però coincide con la chiusura infrasettimanale di un altro bar in zona. Poi ci sono altre attività che sono rimaste chiuse. Chi costretto per Covid? Chi perché decide di fare la chiusura in questo periodo? dell'anno. Ed ecco che arriviamo dal Piazzolo Aragonese fino alla Violetta con sei attività di pubblico esercizio chiuse. Viene chiaramente a cadere anche tutto quello che è l'interesse verso la zona perché la molteplicità di presenza di attività al pubblico, soprattutto nei bar e nella ristorazione, e la molteplicità di presenza di attività aperte che attirano anche il passeggio dell'isolano in una giornata di bel tempo. Insomma, voglio dire, non è che sarà soltanto la piacevole passeggiata sotto al castello.